Di che iniziativa si tratta e perché? Allora abbiamo deciso di continuare con il sostegno al popolo ucraino che avevamo già iniziato nella scorsa presidenza, quella di Arnaldo Abeti che è il presidente che mi ha preceduto nella carica. E quindi abbiamo deciso di proseguire nel sostegno appunto al popolo ucraino che come noto ha dovuto lasciare la propria terra che è martoriata dalla guerra. In questo caso abbiamo acquistato 20 copie di un libro che si chiama La Befana incontra Baba Yaga che è stato scritto da un appassionato della cultura dell'Est e che è stato tradotto in ucraino. Ha una prima parte in cui sono raccontate diverse fiabe con la parte in ucraino e la parte in italiano e poi in calce vi è una spiegazione molto semplice naturalmente dedicata a coloro che approcciano per la prima volta la lingua italiana appunto che veicola le regole della lingua italiana. Quindi abbiamo pensato di sostenere questi bimbi che frequentano tutti gli ultimi anni dell'asilo oppure le scuole qui in Italia da noi. Mi piace mettere in evidenza un aspetto, è passato più di un anno dai primi arrivi e dalle prime ospitalità e il fatto che a distanza di oltre un anno non sia venuta a meno l'attenzione e l'interesse da parte della comunità locale e delle associazioni noi facciamo in fretta a dimenticare. In questo caso invece è positivo ricordare che nonostante sia passato un lungo periodo di tempo questa attenzione c'è. La struttura continua a funzionare molto bene devo dire e con elementi sempre più positivi proprio oggi c'erano le lezioni di lingua italiana quindi il tema dell'inserimento di queste persone perché mettiamo anche in conto che una parte di queste persone rimarrà in Italia è un tema che stiamo cercando di svilupparlo utilizzando tutte le esperienze che ci sono sul territorio.